Carica batterie ma anche auricolari wireless o con filo, oltre ad altri numerosissimi accessori per la telefonia. Tutti contraffatti, complessivamente oltre 9.000 pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza all'interno di un locale commerciale cinese all'ingrosso di prodotti di elettronica nel capoluogo. La contraffazione era prevalentemente sui marchidi regolarmente depositati come Apple o Samsung. Il controllo delle fiamme gialle di Bari è scattato anche a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni commercianti della zona che lamentavano l'illecita concorrenza praticata dall'imprenditore cinese, con la messa in vendita nel proprio deposito di accessori di telefonia a prezzi molto bassi. Gli approfondimenti dei finanzieri dopo il controllo hanno consentito di appurare che si trattava di prodotti contraffatti immediatamente sequestrati prima che potessero andare a rifornire i dettaglianti della provincia barese. Il commerciante cinese è stato deferito alla competente autorità giudiziaria barese per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti consegni falsi, frode nell'esercizio commerciale e vendita di prodotti industriali consegni mendaci. Se i 9.000 accessori fossero stati immessi sul mercato avrebbero fruttato all'imprenditore cinese oltre 100.000 euro.